Benvenuti su News Flash Italia. Vi invitiamo a lasciare un like, commentare e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie. Grazie! Il mondo della recitazione è in lutto per la scomparsa improvvisa di Armando Pugliese, avvenuta il 18 giugno 2024 a Napoli. Tra coloro che hanno vissuto da vicino questo dolore, c'è Elena Sofia Ricci, che ha condiviso un commovente post su Instagram. L'attrice ha pubblicato una foto insieme a Pugliese, definendolo maestro, padre e amico. Ha espresso la sua incredulità per la perdita e ha dichiarato che lo porterà sempre nel cuore. Armando Pugliese, nato a Napoli nel 1947, è stato un attore, regista e drammaturgo che ha lasciato un'impronta indelebile nella storia del teatro italiano. Elena Sofia Ricci ha concluso il suo messaggio d'addio ringraziando Armando per tutto quello che ha dato al teatro e sottolineando che da quel momento il mondo teatrale è rimasto orfano. La morte di Pugliese ha lasciato un vuoto enorme nel cuore di chi lo conosceva e ammirava il suo talento e la sua passione per la recitazione. La perdita di Armando Pugliese ha scosso profondamente il mondo della recitazione, lasciando tutti attoniti di fronte a una vita così intensa e piena di arte. Il suo contribù al teatro italiano rimarrà indelebile e il ricordo di lui continuerà a vivere nei cuori di coloro avuto la fortuna di conoscere.